L'edizione 2024 di Trentino Jets è molto ricca di concerti, soprattutto nel periodo estivo, luglio e agosto. 34 concerti nelle varie valli della regione, le Val di Non, le Val di Fiemme, le Val di Fassa, le Val Sugana e i Val Lagarina, con formazioni diverse, duo, trio, ensemble, big band di vario genere. È una proposta molto ramificata e anche molto, diciamo così, diversificata nelle varie proposte. Questo ci fa molto piacere perché ormai alla tredicesima edizione di Trentino Jets possiamo dire che nell'arco dell'anno organizziamo circa 100 concerti. Da non trascurare anche l'attività, diciamo così, didattica, rivolta alle formazioni bandistiche, alle bande e anche ai giovani musicisti che si vogliono mettere in gioco. Comunque tutti i dettagli si possono trovare sul sito di Trentino Jets. L'unica cosa che voglio anche ricordare è che quest'anno riusciamo a fare una collaborazione con un festival che si chiama H2O, organizzato dalla Fondazione Casa Orale Val di Non, con un gruppo, diciamo così, molto noto che è Banda Osiris. La sezione Valli del Noce di Trentino in Jets dal 12 al 25 di luglio ospiterà molti concerti sulle sponde del lago, nelle piazze, nei castelli, nelle località più belle e più suggestive delle Valli di Non e delle Valli di Sole. Ci saranno molti musicisti emergenti o affermati che hanno delle eccezionali produzioni autoriali discografiche da presentare, che sono le più interessanti che ci sono state nel panorama nazionale e internazionale di questi ultimi anni. Quindi musicisti del calibro di Tom Hollendorf, che si è imposto sulla scena britannica, o il duo di Stefania Tallini e Franco Piana, o, mi perdonate lo scioglilingua, il sestetto italo-israelo-tedesco-cileno-spagnolo-sud-africano di Caton e tanti grandi musicisti.